Ciao ragazzi, sono su minecraft badwars che non parto da un pezzo allora facciamo solo che provo a giocare minecraft badwars con la 1.13 che spero che non metterò dei blocchi da sotto i piedi che sennò cambiano sicuro il server che non è possibile ok iniziamo, ci sono tutti i team completi visto che normalmente in questo server non ti parte se non siete tutti i 8 allora i materiali perchè ti mettono una vita però in questo server ci mette troppo tempo ad arrivare i materiali allora arrivano i 12 e poi facciamo l'attacco di cattiveria sperando che... allora... no? si che penso che bastino si bastano, bastano allora andiamo no aspetta il grido si che c'è, allora andiamo mi ha visto? no ah invece si mi ha visto adesso, prima no allora non penso faccia in tempo allora noi andiamo sono qua io distrutto? ok adesso ci uccido ci uccido ci uccido no il lag il lag il lag no 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 vabbè oh ma cos'è? ma c'è adesso ci mettono vita a farmi responare il gioco allora andiamo copriamoci il letto come che arriva non penso faccia in tempo ok allora devo ucciderlo definitivamente io ho 5 tacche invece la rosa è una allora invece il grido anche lui per... ma mi sembrava che laggava allora di sicuro si ha preso la spada eccolo l'infame ha preso la mela d'oro eh devo provare a farlo cadere io ah vuole fare team cari cari ma no 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 se ci do no è impossibile eh 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 vabbè addio a parte che mi ha tolto il blocco addio eh adesso però ce la fa spada ciao amico io sono qui allora se cado prendo danno e non ce la faccio devo ucciderlo poi alla mela d'oro lui vieni qua però ha il vantaggio del primo colpo si 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 sono forte io due ma come due dovevano essere un quattro almeno oh boh due vabbè sono sponati adesso gli smeraldi ma dai ah no perché gli ha presi il verde eh infamello arriva anche il giallo ora ma che vuoi fare giallo vediamo gli smeralizzanti li ho presi io allora quattro smeraldi sono interessanti perché posso prendere la spada in diamanti ma non la voglio poi ci siamo soltanto io il giallo e il verde adesso penso ok allora prendo la sharnes ok e andiamo di nuovo al centro ma prima di andare prendiamo i blocchi no rincesta e andiamo al centro andiamo ancora a spawnare ma come allora ci sta avvenuto qualcuno a prenderli che non è che ci metto una vita ecco adesso arriva il bianco ma il bianco lo sta non sa fare i ponti o colla non sa fare i ponti mi sa ok ci sono e lui è morto perché è nabissimo andiamo sarà veloce e indolore no 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 cavolo ma come pure la nausea ti da ti da pure la nausea ora ok lui non ha niente anche se ha la no chi sei tu muori male anche tu ok ho ucciso anche lui lo riuccido questo minchia quanti nabbi quanti nabbi aia però ha fatto male adesso dai 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 distrutto distrutto ok lo uccido è nabissimo questo ucciso lui definitivamente allora basta voglio prendermi l'armatura ok l'armatura in ferro minchia si andava diventato devastante cos'è questo iron golem perchè è marrone me l'adoro andiamo dall'acqua che mi ha provato ad uccidere ma non capiva che io avevo una squadra in ferro con la cernes muori male non farmi cadere infame che un forte davvero uomo no 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 muori male distrutto dai ok adesso lo uccido eh si si voleva arrendere ce l'ha arreso questo poveraccio ok ci siamo posso prendere l'arm golem si si ho un aeron oh wow wow calmo tu guardalo lì che infame ok che infamello che è vuole farmi cadere dai vieni 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 sei il coraggio vieni dai 10 dai verrà prima o poi ok ok vado su vado su vado su provo ad ucciderlo ok ucciso ucciso eri sicuro è morto me l'adoro no dov'è? ah ancora vivo muori ok adesso è morto eh smeraldi smeraldi è rosa lui ok e lagga molto lui me l'adori e ci ritorna lui sta ritornando qua da diamanti ok ha un vantaggio questo che lo uccido così no che lag che lag che è lui ucciso andiamo da lui e lo final killiamo con la tnt no 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 non farmi cadere per favore per favore dai è pure esploso dai non ti ridai smeraldi io odio le persone che mi fanno cadere non mi danno il tempo di fare nulla che poi è morto dopo lui no no c'è il verde qua c'è il verde cosa si fa a lui? muori male infame mi avevo la torta di sorpresa muori male no 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 oh grazie per i tre smeraldi no adesso pure l'armatura in diamanti attenzione prendiamoci la speed per me il verde si vorrò vendicare quindi tornerà io provo ad andare dal rosa ho paura ok sta andando via al mio momento e qua sono arrivato tnt questa volta non credo che abbia preso di nuovo la trappola è qui in base lui muori eh ma lagga lui povero allora piccone io ho vinto qui sono stato cliccato cioè io l'ho ucciso e sono stato cliccato non mi fa più entrare ah alleluia cioè io devo rifare perché sono stato cliccato ok ma io lo dico devono per forza chiccarmi se ci sono una persona che laggava a best e loro mi chiccano vabbè magari era un amministratore che laggava un sacco e mi ha chiccato boh allora lì c'è il verde che ha abbardato quindi devo prendere un piccone io allora il diamante lo mettiamo qui ok quanto costa il piccone in legna 10 ma come io non ho i materiali o ce li ho i materiali mi sto piccone e li ho oh ma cos'è adesso non mi fanno nemmeno più comprare le cose la spada me la fa comprare ma non il piccone cioè io non posso andare da lui senza il piccone ma guardo un po' così con la lana e vado ok lui non capisce lui sta ancora bardando e non mi ha visto e sta cosa è strana invece si che mi ha visto muore male muore ok ho ucciso li sorgiamo così con le mani distrutto ma smettoni di chiccarmi non è possibile continuano a chiccarmi sti infami ma io cosa ho fatto ma io cosa ho fatto cioè loro continuano a chiccarmi io sono da solo sono l'unico da solo no almeno cioè il grigio ma cos'è sta roba oh mi dai che che figata che figata no vabbè spero che stavolta quando ho ucciso una persona però non mi faccia chiccare cosa sono i cristalli qualcuno mi da un'arma 30 diamanti prendo una spada ok ok allora per avere un'armatura devo avere un toccante di chiccarmi ma cosa faccio per avere blocchi 4 diamanti per avere dei blocchi ma dai vabbè ogni gialli ci sono in due ci posso provare diventa un nuovo ninja delle bad boys solo madonna vabbè vaffangale mi ha ucciso il giallo infame ma pure ha fatto il kamikaze mi uccidono no non dirmi che mi chicchiano di nuovo ma quando responò una spada in ferro ancora lì ci posso provare ma ho 62 diamanti eh vabbè ma ne... non mi fai da qui non la smettoni di chiccarmi sti qua infami vabbè bene resti qui venire qui continuano a chiccarmi basta non ne posso più alla prossima